Cari telespettatrici e cari telespettatori, grazie per esservi sintetizzati ancora una volta su Klagemawa TV, il muro del pianto dei media. 50 anni fa, l'uccisione di Kennedy. Il presidente americano John F. Kennedy, 50 anni fa, nel 1963, riuscì con la Executive Order 11110 a fare una mossa intelligente per liberare gli Stati Uniti d'America dalla dipendenza della Fed, Federal Reserve Bank. La Fed allora festeggiava il suo cinquantesimo anniversario. Il suo order 11110 dovrebbe dare la possibilità al Ministero delle Finanze americane di aumentare quel poco di denaro in argento non dipendente dalle Fed. Così la produzione di banconote ritornò di nuovo nelle mani dello Stato e il trust delle banche private venne esautorato. Quando attorno ai 4 miliardi di dollari in banconote a piccolo taglio, a cui era stato dato il nome di United States Notes, banconote statunitensi, erano già state aggiunte alla circolazione e quelle a taglio grande aspettavano nella stampa di essere messe in circolazione, il presidente John F. Kennedy, il 22 novembre 1963, fu assassinato. Tutto il denaro corrispondente al valore dell'argento fu subito completamente ritirato dal traffico e la Fed ritornò subito al monopolio della produzione di soldi senza margine di confine. Da allora sono passati altri 50 anni di dittatura mondiale della Fed e dei suoi mandanti. Ci vorranno altri 100 anni fino a che questi delitti siano puniti? Con questa domanda vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Muro del Pianto. Non mancate, arrivederci!